Lo spettro di un passo indietro c'era, inutile nascondersi. Dopo la bella e storica vittoria d'Atene contro l'AEK, Treviso si ritufava in campionato dove nelle ultime due gare erano arrivate altrettante sconfitte. Bisognava far tesoro del successo europeo, ma in casa di Trento non era per nulla facile e il copione ha rispettato una gara di puro agonismo, come ci si aspettava. Treviso la porta a casa con le unghie e i denti in una partita da otto volante. Primo quarto in avanti, pazzesca frenata nel secondo, equilibrio nel terzo, allungo nel quarto. Rovesci da entrambe le parti con tanti protagonisti come De Wayne Russell. Sappiamo che durante una stagione lunga ci saranno degli alti e bassi e momenti di calo, ma dobbiamo sempre avere fiducia nei nostri mezzi e in quello che ci dice Coach Mars. È tutta questione di mentalità. Ci sono lui, Dimsa, Akele e Jones, tra gli alfieri di Coach Menetti, che manda in doppia cifra sei uomini e sa leggere i diversi volti della gara. Vittoria sofferta, sì, e la sensazione che i problemi in campionato non siano del tutto risolti, ma una vittoria che ci voleva per allontanare lo spettro di un filotto negativo, anche in vista del ritorno al Palaverde contro Varese.